acqua grazie ci fa con lì ci tiro la mucca no c'è te lo dico ma sono sentito carolino mamma ispirato che diciamo da prendere un po' di patate aspetta lo tendi che hai una moglie che me la sarei ficcata malissimo questo è tutto da bippare sto pezzo ok ok facciamolo facciamolo cosa? chiamiamo in tre e la moglie per caso sai dove è la trunchesina dai cammina non sai dove che secondo te che non vede so che l'ho messa da qualche parte dai aspetta che sorda era proprio qui dove l'ho messa hai perso qualcosa amore ciao tesoro che bello si c***o mamma la figlia no la figlia no la figlia ciao bella si si è la figlia è la figlia grazie eh sì è quella che ci ha aiutato all'inizio alla fine mi ha fatto nascere noi sta qua eh sì eh da spacco che rettino il minore boh c'è ripartato a miglia di distanze s'andato una cosa uno specialista aereo spiata aereo la patata aereo i rai uniti trofeo si blocca della rimessa aspetta 266 no però però solo quando fai prospetti vip mannaggia aspetta aspetta mi vai vedere una cosa ce ne manca uno no perchè uno un uno si 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 ce l'hai si ce l'ho vediamo cosa succede allora ci andiamo con mi chiamo guarda dove sono finito guarda dove mi sono neri lì spero che c'è dopo andavamo in elicottero si guarda qua dove ti ho messo bam c'è un'isoletta è pieno di roba da raccogliere guarda adesso vediamo no perchè così sblocchiamo la cosa a livello prosperity 3 facciamo manchia una cosa in stelta e ci andiamo a pigliare in ciaia che è vita e lo sapevo qua si si però questa ci ha chiuso di brutto ci facciamo questi alcuni mi chiamo si io lo so la solita di tutti i cazzi una anni fa ho udito la voce di dio il dino sta più buono mi parlo di una via difficile da percorrere quanti sono? qua tre una e quattro sono io sacche sacche mi parla e si no e' già inizio ma vieni qui guarda quanta roba c'è ehm se vai dove sono io lì in fondo c'è evidentemente aperta ehm non è qui che abbiamo bisogno è un altro no 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 ah c'è un altro insieme il passato dei presi tutti li abbiamo preso sto da un posto qui poi ce n'è subito uno a fianco che è qui e poi una tornando indietro porterai alla luce la verità c'è legato il c***o ma fatti un pelo meno questo ma meno ma meno ma meno per lo meno per lo meno non me lo meno ma soprattutto guardi amici non dirlo a me eccolo girati 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 io ora la fa prendere la pagina tu io ho paura sono pieno questo cosa prende io no non può prendere simbolo delle skate i peccati del mondo sono siano principale cosa devo fare io girati cos'è oh c***o solo chi ha rispettato i segnali è stato risparmiato non lo fa prendere a quattro te lo devi distruggere togiti aspetta che mi sono più no no c'è un altro esamina aspetta ecco ma ho questo strumento che devo piazzare ma non so come prenderlo mi ha dato uno strumento che devo usare per mirare le cose ma non so come tirarlo fuori forse dove c'è la canna pesca frecce su vieni qua dove sei eccolo qui non è un'altra cosa come stato purificato il mondo borco il suo mi chiamo se ci ha brasilia tutti vieni qua dove sono io ah devo lineare mia regione vieni qua dove sono lineare aspetta qua 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 dove c'è la luce e ti piatti qua questo è giosef seconda parte quando sono io se non ti levi dei amico il forte proprio qui dove sei tu girati accogliali il piccato perfetto aspetta che lo prendo a freccia su per chi non lo sa si fa freccia su e si completa si dice trova la fiamma delle tende brucia qualunque ben andrò raggiunti ho tirato fuori l'arco non ci provate questa tirata o della sannata la sua la stella via via ma la stella si sdrippani giosef seconda parte oh guarda qua c'è la cassa cassa eh non è presa la cassa non siamo venuti per la cassa si eravamo venuti per le cassa ci siamo trovati in mezzo aspetta dove sono dove l'hai trovata staccata eh qua eh prendiamole tutte e quattro visto che si trova a quale presa qui c'è la cara qua si non vedo casse quindi penso di sì ok quanti me ne va aspetta me ne da una di tre quindi si qua ce n'è un'altra dentro la carta e quanti qua ok dice la carta cina di si cassa si cioè dovrebbe essere un'altra qua non questo non adoro queste cose però veramente sicuramente c'è ciò che ha a che fare col 5 per me cassetta l'ultima dov'è eh no se giro non scappi eh no 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 chi era eh quella tutto bianco si ma non mi ha dato troppo è prendilo tu cassa guarda dov'è vieni a vedere dov'è se tu la vedi l'acqua vista presa bella prendete il quello bianco vediamo che mi dice da qualcosa ce l'avevo già pelle di cervo dunque mi chiamo quanti obiettivi missione primare sono diventati mentre l'uomo allora uno a 200 metri di cuo ok primo lì e lì c'è tra l'altro anche l'orso nero americano forse ti sei spero di non incontrarlo adesso del caso nelle mutande perché che non lo so si si cadono nelle mutande tutti gli streamer potrò potrò farlo anche il giusto fai chiamaci scusa non si capisce non si sa perché ti credo un po' mascar away ok eccolo qua esamine raggi di luce ma sai che è che prende devi prendere il suo pistillo dunque lo prendo raggi che me l'ha dato ricordatevi che freccia sia acqua e qua ok aspetta aspetta prima di rompere questi pronti vieni qua dove sono io hai ritrovi all'angolo giusto qua dove sono proprio io io ho un po' ok bellissimo eccomi mi mi abbasso no ok lo tiro fuori con la freccia su fuori con la freccia su e lui spara a quella freccia su dove ti compare tipo dove 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 è in alto grande joseph solo noi siamo sufficienti diffuso come una mani da vivere nel nuovo mondo che dio ci ha di qua 160 metri di che ci sono delle casse prima no no mi fai che è lo stesso posto sai no perché sono 0 di 3 eh no ma è lo stesso posto dove dobbiamo andare per la missione sì certo bellissima sto posto quindi vengono parole di far prese ma andate a cagare non avete un minimo di storia c'è un minimo di narrativa 0 romanzato ok una cassa è qua guardalo lì guardalo lì no 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 qua c'è la casa vieni qua però voglio dire una cosa se lo vedi anche tu sei fuso a merda perchè se minchia dove stanno fu ah ma che è fa forza si fusa qua è l'isola dei fusi innesco di rame ho trovato qui dietro foglie aspetta che prendi le tre casse eccola qua cassa se vuoi foglie così ci continuiamo a sballare manca una cassa vado sul tetto e vedo dove è è lì dietro deve essere dove c'è lui sì indietro allora vado prima da lui vieni qua è qua ma è qua non prenderemo la carta non andiamo a lui vediamo come ci combina ciao joseph c'è chi ti tira dei tenti di tv quindi prendila 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 ok venti del cambiamento sono arrivati aspetta che devo capire dove sono i raggi di luce allora la lanterna è qua la lanterna è qua ma non c'è la ho passato al passato non sale sul tetto ma non vedo neanche nessun silvio si era di cosa ha fatto a tirare sto gancio eccola qua ma anche qui ci sono i miei cosi devo guardare verso l'alto e mi sa stavolta sai eh sì non ho secondo me da sotto verso l'alto no no da ho già da qui da qui da qui pd video sono io praticamente da qui pd qua guarda che cosa assurda cosa si è inventato come facciamo guarda qui dietro bancone per cui lo faccio vedere per tutti i nostri tenti dietro bancone vi accovacciate leggermente più avanti estrete l'amuleto un po' più indietro credo eh no no non è mica così no no non è qua non è così perché il non è questo il taglio giusto assolutamente no perché si possa se ti è a passo no a me no ce l'ho ancora in mano aspetta allora devo chiedere ancora ecco gira bravo fermo fermo ti dico io quando bravo allora qualcuno deve andare lì a girare che cosa fammi vedere lo faccio vedere un video questa questa manopola qua girando questa manopola praticamente da qui dentro andando dietro bancone girano gli ingranaggi lassù poi voi vi piegate e vi allineate così dovrebbe essere giusto aspetta ora te lo dico ok si è giusto provo a tirare fuori l'amuleto vediamo un po' finchè non siamo si è giusto però devo trovare il giusto angolo se non va avanti eppure è giusto perché non va allora non è giusto non è giustissimo non è giusto è giusto giusto la posizione è questa si è giusto si è giusto no non è giusto ok girano ancora perchè stai lì con l'amuleto poi è giusto sai no no ma è giusto frate è giusto così no 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 sbagliato sei di fermo si così io ti ero prima un po' diventare sbagliato sbagliato ed è giusto così però non me lo prende e non capisco perchè te lo faccio anche vedermi il video e il simbolo è correttamente ci sono due punte così io con questo vado a completarmi ci sono due punte così e io con questo vado a completarmi c'è da una foto quando una foto devi stare in piedi devi solo spostarsi un attimo che non ti vado a foto spostati un po' bassa ti devi stare in piedi così si ma che ha coccato un gioco vedi che completate però sta in piedi e no ma i piedi non riesco a beccarle ah ok forse da in piedi è vero in piedi eccolo qua in piedi non ha coccati ok le vecchie abito diffuso qui 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 l'unico modo per dare arpella sta tirando come un pazzo la vivere senza peccato l'esempio della croce andare là in campo mi si può sentire un po' hai capito sì ho capito dio ha purificato il mondo dal peccato eppure il peccato qua e dove abbiamo liberato no sì qua e dove abbiamo preso trovato delle cose prima il peccato è nel nostro sacco qua infatti è qua ci mi indica di qua ci mi indica chi sono su? qui abbiamo già preso vieni vieni segui il sentiero mi dice vai che ti affetta ah aspetta vado avanti io e non ci accendono vai avanti tu e accendono oh oh forco bellissimo ma dopo il cavallo bianco è giunto il ferro bellissimo questo è stato quando c'è stata la scuola guarda il buca il buca piccolo parte 2 eh 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 dove c'è il tipo ci siamo c'è c'è il tuo personaggio di quando hai finito fare quelle 5 procedi il vice il vice c'è il vice dov'è il vice voglio il vice pensiamo di avere in più in bagatumini confronti di dio troppo ma è lì ma so aveva un'ultima cosa da dirmi voglio il vice ecco qua qua c'è lui cazzo io lo punto è scomparso mi sembra da giusto vai vai perché sei fuso a merda vai vai ho il mio libro la parola è la giornata che tosse abbandonano il miglio aspetta che ci sono un sacco di rischio a pensare ho fame abbiamo risalito scusa dobbiamo risalire in superficie più presto ma ho paura credere di aver fatto una cosa giusta però voglio fare una cosa giusta dice che lui mi perdona ma io non ci riesco non so se ho fatto una cosa giusta io non capisco e lui non mi dà altro che la parola non so chi l'ha scritto è io sì tipo madonna quante tacche dice il vice ho visto vice ma leggi tutto ho letto tutto e no non c'è un altro c'è un'altra piena di note allora tu sai tu sei meglio di chiunque altro è dio che ti parla se ti ascolto va tutto bene è tutto a posto posso aiutare posso salvare persone portare la giustizia e tutto andrà bene se giudico come il tuo giudice il giudizio sarà giusto e retto il giudizio è la parola di dio adesso capisco mi dispiace tanto dammi una maschera ho paura nessuno mi conosce fammi rinascere come il mondo come il mondo mondato dal peccato nuovo e lotterò per mondare il peccato grazie Joseph grazie padre questo deve essere un altro fuso c'è solo due di biglietti se no no ce n'è un altro qua mi sa che leggendo lì ho normalmente no no c'è c'è leggi abbiamo fatto del bene non te ne indica più abbiamo fatto del bene con ste mani le abbiamo usate per un gesto di pace le abbiamo messo fine alla povertà e alla malattia no abbiamo preso l'eccellenza l'abbiamo sprecata nella ricerca del banale nelle nostre brevi vite passando senza significato quel che è peggio e che discutiamo di questi doni preziosi chiudendo le mani in un pugno facciamo la guerra invece di tenerci per mano invece di confondere i nostri fratelli dando vita ad una società in grado di nutrire ed elevare ogni anima qua c'è un altro questo l'olettone era firmato e mi dà fastidio sta cosa non si sa niente del vice qua sulla cassa come un altro sono sopravvissuto e non ho più potere su di me mi bevo della pace e dell'amore perfetto di dio in serena compagnia con te la mia famiglia e so cosa significa venire accettato per tutto ciò che sono da te la mia famiglia qua c'è un altro sul barbino o vice i sensi di colpa ti distruggeranno o vice o vice i sensi di colpa ti distruggeranno ho pensato se fosse il caso di ucciderti come atto misericordioso ma farò in modo che tu comprenda la mia clemenza farò in modo che comprenda cosa significa essere giudicati dal mondo in cui giudicavi e quando ci accadrà quando di te non rimarrà nient'altro che la fame potrò rivelarti cosa sarai da quel momento in poi e nonostante tutto Dio ha ancora un piano per te e anche io di qua c'è un altro poi mi sono fermato dopo giorni di giugno e preghiera ho nuovamente udito la voce e ho visto che cosa accadrà è il volo delle persone che giudicherà l'Eden dopo che me ne sarò andato non era un volto a me conosciuto ma somigliava al mio quindi non è sangue del mio sangue ma amerò questa persona come tutti gli altri miei figli cioè spesso si rifisca al vice quando verrà la mia ora lascerò la mia parola qui adesso e qui aspetta che c'erano gli occhiali e quando essa tornerà nell'Eden allora il nostro destino sarà manifestato Dio non mi ha rivelato quale sarà questo nostro destino ma fede nel fatto che sarà giusto capito c'è lui adesso ecco c'è uno qui vai avanti fammi passare qui si si infatti io non li ho più toccati mazzo un topo ok ci sto provando oltre alle mura dell'Eden's Gate una nazione che un tempo poteva dirsi forte sta soffocando nella sua stessa spavalderia l'élite gonfia il petto e dice ammirate la nostra ricchezza tremate davanti al potere stupitevi del nostro sapere e io mi stupisco ma non è stupore è vergogna perché il loro sapere è solo il cancro di una propaganda che ci vuole in uno stato di perenne paura e parla proprio del periodo contemporaneo e tremo ma non perché ti ammiro è il dolore dell'odio che alimenta i loro nefasti intenti e nello scintiglio dell'oreterno accumulare vedo solo la l'acuità spirituale del materialismo cos'è il tuo colore l'ho ammazzato però non mi la ebbè è giusto fai sofferto fatti bigliettini non vedo niente qui su qua niente qua si esce qui si esce dice di uscire dal bunker e ne lo facciamo io sono uscito ma intanto dovrai uscire tu eccolo scusò a merda no no abbiamo liberato la zona la profezia eh abbiamo liberato la zona non è più di gioco oh qui ti scusi Giuseppe dove c'è non c'è non c'è non c'era più nel bunker ci sarà trazione non è cambiato niente nel bunker vero sì non ci sono più i colori di prima ah ah già non c'è più il viola è passata la fusione è passata la fusione hai visto che sotto la porta si intravede qualcosa qua penso che sia un bug grafico una vega bianca sì ma è un bug grafico cioè non è un bug grafico può essere un capolavoro grafico bug oh madonna mia pasta mi ci ammazza vedi che bug che c'è qua vabbè per delle patate come è per delle patate ma pubblico parte 2 ciao 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 ciao